benvenuto su about me il nuovo format di andrea fiore gruppo è uno spazio completamente autogestito quindi se sei un artista un pittore un cantante un fotografo un ballerino uno scrittore contattaci fatti sentire nel gruppo e avrai il tuo spazio la possibilità di farti ascoltare di farti sentire di farti apprezzare dal pubblico e iniziamo con il nostro primo ospite si tratta di una poetessa che è già stata nei nostri studi in altre occasioni e che torna con nuove sue creazioni è una poetessa molto in gambe molto prolifera perché ha fatto tantissime cose è uscita con tantissimi libri e tanti altri sicuramente ne sfornerà si chiama michela minini e vi consiglio di acquistare i suoi libri non solo per la bellezza delle sue poesie ma anche perché c'è uno sfondo umanitario le sue poesie e i suoi libri sono venduti per destinare il ricavato completamente in beneficenza quindi una regione in più per acquistarli iniziamo allora il nostro primo about me con la poetessa michela minini ciao a tutti sono michela minini abito nell'entroterra di savona sono una mamma a tempo pieno e scrivo libri per poesie questo è l'ultimo mio libro essenza rara che parteciperà al premio strega vi leggo alcune poesie di questo libro ricordo tu vegli nell'alta armatura dell'epoca ormai divenuta fragranza con lo sguardo trafugato raffiguri l'immenso sostanza se luce che canta trasparente tra la gente destreggi silenziosamente in questo ambiente aria nell'aria gocce di eden stabilizzano l'avvenimento incerto tra gli sbalzi d'umore eccede il settore dell'amore devo ringraziare buonanima di mia sorella che il motore di tutto questo ricordandola con tanto affetto e con tanto amore ora abbraccio abbraccio inatteso colora la giornata con sorpresa aspettando sera riequilibri questa atmosfera tutto s'allegra nei passi innovativi dei sorrisi di donne vive illuminando i mattini rigeneri cuori gentili ridoni equilibrio tra i vivi parole parole sentimenti non sono solo impressioni ma insegnamenti che vanno oltre alle emozioni questo è il libro e senza rara lo trovate su qualsiasi piattaforma sul ctl editore sul loro sito dove è stato pubblicato i ricavati dei miei libri sono devoluti tutti in beneficenza per intero alle principesse in corsia che collaborano con il pediatrico di savona e non solo fanno anche altri ospedali nell'italia milano torino roma per i bambini fanno volontariato e donano sorrisi e regali grazie a chi fa beneficenza questo è un progetto mio di vita che porterò avanti finché avrò respiro devo ringraziare il pediatrico di savona il dottor galliero le principesse in corsia il curatore del libro alberto marubbi la ctl minobozzi che ha creduto in me e ha pubblicato questo libro ringrazio tutti e coloro che compreranno per fare beneficenza grazie ciao a tutti